Nessuno si azzardi a fare campagna elettorale con il punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Parola del candidato sindaco di sovranità Alberto Di Giandomenico che a onda TG ribadisce come sia inaccettabile approfittare delle battaglie a difesa dei presidi della città per scopi elettorali. Ho saputo che qualche candidato sindaco ha fatto visita al reparto e che la senatrice Stefania Pezzopane si ricorda solo ora del reparto di maternità in calza Di Giandomenico. Il candidato sindaco tiene a precisare che quella del punto nascita è una battaglia di tutti e in quanto tale non può essere utilizzata per la campagna elettorale. Un ultimo messaggio è diretto alla senatrice Stefania Pezzopane. Non provi a cambiare le carte in tavola, tuona Di Giandomenico. Se il punto nascita di Sulmona è ancora in vita, non è certo per merito suo.